Adesso faccio da passante, cioè faccio da colui che passa la parola in campione subito, perché ha Salvatore Muzzo con infrastrutture e trasporti. Altro demagato. Vai Salvatore. Sì, buonasera a tutti. Dunque, intanto devo dire che già stamattina, quando ho assistito ai risultati dei miei amici rispetto ai differenti argomenti che erano in discussione stamattina stessa, mi sono accorto che l'aspetto dei trasporti era presente in ognuno di questi tavoli. Il tema dei trasporti è ovviamente trasversale, perché con i trasporti, con le infrastrutture, lavora un po' tutto il tessuto cittadino e metropolitano. In realtà è talmente trasversale che anche dove si parla di competenze in differenti enti locali esiste una ripartizione di competenze su trasporti e infrastrutture per ciascuno di questi. Mi riferisco alla regione, mi riferisco anche alla città metropolitana e anche ai comuni, quindi agli enti locali più piccoli. Tutto questo ci ha fatto ragionare, a me e ai miei amici e ai componenti del tavolo 9 che ringrazio perché mi hanno dato una grande mano, ringrazio Raffaele Donini che è stato relatore d'eccezione al nostro tavolo. Tutto questo ha fatto pensare ai miei amici e a me che è necessario innanzitutto, e questo è un elemento che possiamo già presentare al nostro candidato sindaco, Virginia Nerola, che è necessario avere intanto, perché questo particolare aspetto amministrativo venga organizzato e sviluppato nel migliore di modi, è necessario avere una visione condivisa, comune, di tutto quello che deve essere fatto, sviluppato e organizzato. Una visione comune che deve essere quindi in capo innanzitutto alla città metropolitana, ma non solo. Una città metropolitana che deve farsi quindi carico di trovare le opportune modalità di dialogo con la regione, ma anche con i differenti enti locali. Ora, Raffaele Donini ci ha raccontato, e voi sapete già, qual è la grande mole di lavori che sarà organizzata sul territorio metropolitano nei prossimi anni. Dal passante di mezzo, chiamiamolo così, in questo momento finché non verrà trovato un nome diverso e forse migliore, al nodo di Rastignano, al nodo di Casalecchio, al People Mover. Tutti argomenti dei quali si è parlato lungamente e su quelli adesso io sorvolo non tanto perché non c'entrino nulla, ma perché consideriamo queste cose come già acquisite, come già, come dire, bisomievoli di essere controllate e verificate. Perché l'altro grande aspetto che abbiamo esaminato è proprio quello che è necessario per il territorio metropolitano guardare queste opere, cercare di verificare che queste opere vengano sviluppate nei tempi dovuti e nei modi dovuti. In particolare è necessario, secondo noi, che si sviluppi insieme al sindaco metropolitano in un'attività di trasparenza e di partecipazione dei differenti processi attuattivi di queste grandi opere. Donini ci ha ricordato che molte di queste opere sono maggiorenni, che hanno più di 18 anni, ebbene che il cittadino a questo punto sappia quando partiamo, quando arriveremo e come ci arriveremo. Poi siamo scesi un pochino su quelle che sono alcune proposte un pochino più operative, che adesso vi racconto rapidamente. Per quanto riguarda, ad esempio, l'aspetto delle infrastrutture, al di là del collegamento People Mover è stato consigliato, abbiamo valutato, la possibilità di consigliare l'elaborazione di un progetto che metta in collegamento la fiera con la stazione FICO. Voi sapete che sono hub importantissimi, FICO tra breve nel 2017 partirà con i lavori e questo è un hub fondamentale. Io poi sono in Granarolo, stiamo vedendo, stiamo valutando un po' da vicino lo sviluppo di questa attività che risulta essere particolarmente importante e forse anche impattante per il nostro territorio. È secondo noi importante, ma non solo secondo noi, anche per gli attori economici, quindi per hub per la stessa FICO Italy World, per gli stessi attori locali del territorio, quindi i comuni dell'Italia di Bologna, è necessario che noi sviluppiamo un sistema di collegamento dedicato a questi hub. In particolare risulta importante per gli altri hub del territorio, che non sono solo questi molto grandi, ma sono anche le scuole, sono anche gli ospedali. Ecco, è necessario che il sistema metropolitano sviluppi dei sistemi di maggiore accessibilità attraverso anche una riprogettazione degli spazi di collegamento tra i differenti hub e che non vedano soltanto l'aspetto pratico, ma secondo quanto ci consigliava un nostro amico architetto al tavolo, che sviluppino anche la bellezza della città, che possano lavorare anche sul decoro urbano, perché una città non è soltanto una città fruibile e semplice, ma è anche una città bella, una città che faccia sorridere i propri abitanti e anche questo per noi è importante. Rispetto quindi alla riprogettazione di questi hub è necessario, secondo noi, anche lavorare su una riprogettazione dell'aspetto trasportistico, perché anche in questo caso è necessario mettere insieme varie sensibilità. Ad esempio, visto che si parla di città metropolitana, è necessario che venga riprogettato, e forse la città metropolitana potrebbe prendersi in carico la responsabilità diretta, la competenza diretta di questo argomento, riprogettare la trasportistica locale. Questa viene fatta di solito dai comuni in proprio, o attraverso una piccola messa in rete, una proposta operativa che possiamo già mettere in campo è quella che la città metropolitana si faccia carico di riprogettare, di organizzare, di gestire e forse anche di finanziare, guarda un po', tutta la trasportistica locale e anche trasversale fra comune e comune. Tra le altre proposte operative c'è per esempio quella di razionalizzare e di cercare di evitare le sovrapposizioni tra il trasporto su ferro e su gomma, per creare degli spazi di intermodalità più efficienti. C'è per esempio quella di lavorare molto sulla bigliettazione elettronica e anche sulla possibilità di usare un unico biglietto tra treno e autobus e quindi gomma. C'è la possibilità e la necessità di ampliare gli orari di fruizione degli autobus. Questo affini anche di un controllo del territorio, di una sicurezza urbana, di una maggiore evitabilità della stessa città e degli spazi locali. per esempio anche l'attenzione alla mobilità elettrica, la mobilità alternativa, è necessario che venga declinata attraverso la progettazione di spazi nuovi anche per l'accoglienza degli stessi veicoli elettrici. E poi un occhio all'accessibilità per i disabili, per chi ha necessità di poter fruire della nostra bella città in modo semplice e immediato. Ad ultimo, ma non per ultimo, c'è anche la richiesta di maggiore sensibilità per creare collegamenti più improntati al turismo, quindi per mettere in collegamento più rapidamente il centro della città con le nostre località turistiche, soprattutto della montagna. Mi fermo qui, il tempo è tirando, vi ringrazio, grazie a tutti per fare una bellissima scelta.